Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max ed eccoci qui pronti per parlare ancora di tv, di gossip, di Marina Suma soprattutto, che sappiamo ha lavorato per tanti anni in tv, lo ha fatto con determinati film tipo Sapore di Mare, insomma ce la ricordiamo magari per quello, ha lavorato con Jerry Calat e ha fatto parecchie cose, però a parte il successo dei film con i fratelli Vanzina, non aveva più lavorato poi a una certa si è ritrovata così, non sa nemmeno il perché e ce lo racconta appunto in un'intervista spiegando tutto per filo e per segno. Sul set ci siamo divertiti tantissimo, purtroppo mi stavo lasciando con il mio ragazzo, Angelo Cannavacciuolo, che interpretava mio fratello Paolo. E mentre lui piangeva da una parte, perché non voleva chiudere, dall'altra c'era Jerry che mi corteggiava alla sua maniera e io non riuscivo a prenderlo sul serio, mi veniva da ridere. E ci fu solo un bacio. Non voleva fare l'attrice ma la hostess. Da ragazzina avevo la cameretta tappezzata di fotografie di aerei. Avevo frequentato anche un corso per assistente di volo e passato le selezioni con Alitalia. Poi mi chiamò Salvatore Piscicelli per le occasioni di Rosa. Io non ne volevo sapere, mi convince il mio fidanzato Angelo che era il protagonista. C'erano scene di sesso molto forti e almeno le ho girate con lui. A 21 anni vinse un David di Donatello e un nastro d'argento e si ritrovò in passerella al Festival di Venezia. Era tutto nuovo per me, l'Excelsior, il Lido. Mi giravo e c'era una star, Ornella Muti, Eleonora Giorgi, Gillo Pontecorvo. Una sera vidi a pochi metri da me John Travolta, un figo allucinante, restai folgorata. E Rob Lowe, con certi occhi azzurri, mica male. Nonostante il successo di Sapore di Mare, con Ivanzina non ha più lavorato. No e non so perché. Ci speravo, però non mi hanno mai chiamato, un po' ci sono rimasta male, lo ammetto. Nemmeno Piscicelli mi ha più cercato, a parte per Blues Metropolitano, eppure fu conosciuto grazie a me. In Italia funziona così. Se diventi famosa con un film, te ne fanno fare subito tanti altri, ti spremono come un limone e poi basta, passano a un'altra. Ho fatto cose più diradate nel tempo. Tre anni fa ero in teatro con Sandra Milo. Lo scorso ottobre ero in Bulgaria per il film Axis of Life. Ora sto girando a Napoli nati pregiudicati, sono la moglie di un boss. Single da tre anni, contraria al matrimonio, non si è mai sposata. Lo considero contro natura, siamo nati per essere liberi. Perché legarsi tutta la vita alla stessa persona? Adesso sono single da tre anni e mi godo la vita tra Roma, Napoli e l'isola di Salina. Non perdo più tempo con gli uomini. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. È tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento. Basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci. Tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.